Scoprite il Carisma SC. Il nuovo letto ad altezza minima ridotta offre funzionalità superiori allo standard e comfort per tutti. Problemi alla schiena, mancanza di tempo, troppe scartoffie o stress emotivo sono solo alcune delle sfide che si incontrano nell'assistenza quotidiana. Il letto per degenti assume un ruolo centrale nella camera da letto del paziente, consentendo un'assistenza dignitosa grazie a una serie di funzioni avanzate. Il comando palmare può essere utilizzato in modo intuitivo da residenti e assistenti e offre una buona visibilità anche al buio grazie alla retroilluminazione. Grazie alle funzioni automatiche di poltrona cardiologica e posizione di profilassi per l'elevazione delle gambe o la prevenzione del decubito, il letto può essere spostato in queste posizioni di cura semplicemente premendo un pulsante. Entrambi gli ambienti promuovono il benessere dei residenti immobili. Con la posizione 0, le sezioni del piano rete si appianano, in modo da poter utilizzare il letto in caso di RCP in emergenza. Con la funzione Trendlenburg, il letto viene messo in posizione a testa in giù premendo un pulsante. Ciò serve, tra l'altro, come misura di emergenza, ad esempio nel caso di shock o problemi circolatori. Un'altezza massima di 80 cm garantisce che le operazioni di assistenza vengano eseguite a un'altezza di lavoro ergonomicamente adeguata. In questo modo, l'accesso al leggente durante le routine di cura è facilitato dalle semisponde laterali safe-free. Con un basamento di 15 cm, possono essere utilizzati gli ausili come ulteriore supporto per la cura quotidiana. Grazie alle sue diverse funzioni di assistenza, Carisma SC supporta attivamente l'assistenza quotidiana e contribuisce a ridurre lo sforzo fisico degli assistenti.